La nottata non passa per Edellandia dopo i ok di comune soprintendenza per la riapertura e la nuova proprietà che ha rinviato la data annunciata per la primavera estate di quest'anno facendo tornare a rischio i posti dei 54 lavoratori. Il parco giochi è ora occupato dai dipendenti mentre anche Mostra Oltremare, proprietaria dei suoli, parla di completa disponibilità a nuove soluzioni. Ascoltiamo gli assessori al lavoro e ai beni urbani Enrico Panini e Carmine Piscopo. A settembre 2014 questi imprenditori se avessero voluto potevano cominciare ad operare. L'altro impegno assunto era ad assumere tutti i lavoratori e salvaguardare i livelli occupazionali. Dal primo giugno queste persone sono lasciate a casa. Chi vuole investire almeno gli allacci della luce dell'Enel li fa, non ci sono neanche questi, cioè siamo di fronte ad un'operazione dove si vuole speculare sulla città e non investire sulla città. Noi con gli imprenditori così non perdiamo neanche più un secondo. Queste autorizzazioni sono state date da soprintendenze comune rispettivamente il 25 febbraio e il 27 febbraio, il 3 marzo e il 9 marzo. Quindi hanno da quel momento potevano procedere, quindi neanche un mese dopo dalle loro richieste di autorizzazione per i lavori queste autorizzazioni sono state rilasciate. Oggi dicono che loro avrebbero voluto chiedere ulteriori permessi a costruire che potevano chiedere soltanto appena avuti i titoli. Insomma, l'urbanistica è una scienza esatta. Ai nostri microfoni i rappresentanti dei sindacati di categoria UIL, CGL e CISL, Massimo Taglalatela, Osvaldo Barba e Ugo Bonanni. Siamo stati costretti ad occupare Dell'Andia perché la risposta dell'azienda rispetto alla nostra domanda, ovvero ritirare le lettere di licenziamento, purtroppo ha avuto ancora una volta il no. Ieri sera abbiamo scritto al sindaco di Napoli e alla mostra d'Oltremare perché abbiamo chiesto loro di intervenire prontamente, proseguendo con la disdetta del contratto con la Unione Dell'Andia, in quanto sono venuto meno i due obblighi che loro avevano contrattuati. I dipendenti in questo momento sono in attesa di riprendere il percorso degli ammortizzatori sociali e quindi avere delle risposte certe anche dalla regione che è latitante su questa vicenda, per capire come andare avanti nei prossimi sei mesi. Perché dal primo giugno noi abbiamo paura che non ci sia la possibilità di fare riferimento agli ammortizzatori sociali ed è indispensabile in questo momento degli elementi straordinari per far sì che questi lavoratori, che vengono comunque tutti i giorni e salvaguardano il parco, abbiano la possibilità di che vivere nei prossimi mesi. C'è un problema sugli ammortizzatori sociali, il decreto Paletti purtroppo ci mette in ginocchio e quindi non c'è possibilità di derogare al primo giugno. Quindi o c'è l'apertura il primo giugno o altrimenti significa che l'unico ammortizzatore utile per i lavoratori è la disoccupazione.